Lutto nello sport per la morte di Christophe Seif Riesberg, atleta del canotaggio internazionale. Il 26enne morto ieri in un incidente stradale a Sabaudia, dove era arrivato qualche giorno fa con la nazionale austriaca per allenarsi al lago di Pola, metà scelta spesso dalle nazionali per preparare gli atleti alle gare. Secondo quanto emerso, Christophe si stava allenando con altri compagni di squadra in bici. Quando è stato investito a Pontigna da una lancia Y, guidata da una giovane del posto, che lo ha preso in pieno e sbalzato fuori strada. Per lui non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 sono arrivati immediatamente sul posto e hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il giovane atleta era molto conosciuto nel mondo del canotaggio internazionale. Nel 2014 aveva vinto il bronzo in due mondiali junior, così come nel 2017 in mondiali under 23. Nel 2020 è arrivato quarto agli europei di Poznan. Nel 2020 è stato un'unitico di l'eslato di nascerti, così come nel programma. Nel 2021 è stato un'unitico di un paese di perarmi. Nel 2020 è stato un'unitico di l'eslato di un'eslato di un'eslato di un'eslato di un'eslato di un'eslato di un'eslato.